C'era una volta a Saltara un drago buono che amava nascondersi tra i boschi. Lui era il guardiano del paese e per questo oggi si dice che il nome del paese derivi da Saltarius, il guardiano appunto. Ma la leggenda vuole invece che vi fosse anche un drago cattivo che sputava fuoco rosso e cui tutti i saltaresi dedicavano ogni anno un dono sull'altare in mezzo al bosco. Da qui si pensa quindi che il nome Saltara derivi da Saltusara, l'altare nel bosco. La vera leggenda, quella originale, non sapeva quindi a quale versione dare ascolto, per cui vuole che siano esistiti entrambi i draghi e che questi si siano incontrati nella notte di San Martino. Il drago buono era andato a nascondersi nel bosco senza portare nessun dono sull'altare per affrontare il drago cattivo e difendere i saltaresi una volta per tutte. Quando il drago cattivo arrivò, aspettandosi di trovare il suo dono e non trovò nulla, si arrabbiò tantissimo e iniziò a emettere urla spaventose che risuonarono in tutto il paese. I bambini lo sentirono e si spaventarono tantissimo, ma il drago buono saltò fuori dal suo nascondiglio e iniziò a sbattere le ali e a sputare fiamme azzurre contro il suo nemico. Iniziò una lunga battaglia che durò tutta la notte. Il giorno dopo i paesani non ritrovarono nient'altro che un mucchietto di cenere vicino all'altare e due denti, uno azzurro e uno rosso, che oggi vengono ancora conservati gelosamente dalla Proloco di Saltara. Siamo qui con Irene Cecchi, la presidente della Proloco di Saltara. Allora Irene, dove ci troviamo in questo momento? Dillo tu, visto che penso questo sia un po' l'orgoglio saltarese. Sì, devo dire, è stata una vera conquista per quest'anno, per il nostro programma Proloco. Diciamo che era da tempo che sognavamo di avere una sede fissa, quindi un punto di riferimento anche per i turisti che vengono a Saltara e non sanno a che rivolgersi. E da oggi, cioè dal 16 di maggio, abbiamo inaugurato il nostro nuovo ufficio informativo. Quindi quali obiettivi cercate di raggiungere per il futuro attraverso anche l'utilizzo di questo ufficio, di questo spazio? Sì, adesso diciamo siamo ancora in fase organizzativa, dobbiamo ancora metterci meglio d'accordo sulla gestione, sul modo, sugli orari, eccetera. Però in futuro si spera di arrivare a un punto in cui questo ufficio sarà aperto costantemente, in maniera continuativa, e potremo quindi anche con la collaborazione del Museo del Balì, dell'assessore alla cultura e anche del Comune, riuscire a usufruire di questo spazio al meglio. Ci dicevi prima che la Proloco di Saltara, nella sua nuova formula, è costituita in prevalenza da giovani. Quali obiettivi hanno? Che elementi di novità sono stati introdotti con il loro arrivo? Diciamo che sì, è vero, siamo molti giovani, abbiamo anche un tesurire più anzienotto che ci dà una grande mano, però diciamo che il mix è uscito molto bene, abbiamo molta voglia di fare, di inventare, quest'anno ad esempio abbiamo portato un evento nuovo, abbiamo riscoperto la tradizione del bracciale, portando Treia a Saltara, Treia Mondolfo a Saltara, oppure aspetti di novità a livello anche della comunicazione, quindi usiamo molto il social, il web, insomma un po' il fatto di essere più social come Proloco. Quindi una Proloco diciamo attenta alla comunicazione, alle nuove tecnologie e potremmo dire anche però all'organizzazione di eventi che abbiano un'attrattiva turistica, no? Sì sì certo, comunque l'obiettivo per il futuro è fare tornare Saltara ai vecchi albori. Siamo qui con Silvio Ceccarelli della biofficina di Saltara, scopriamo con lui quali sono i prodotti tipici di Saltara, i dolci tipici? Sì sì, i maritozzi. E quindi il dolce tipico? Sì sì, il maritozzo. E con che ingredienti è fatto il maritozzo? Vabbè classici ingredienti con farina, zucchero, ci sono gli anicini, l'uvetta, l'olio di semi, le uova. Una curiosità, quando vengono i turisti a Saltara cosa ti chiedono? Cosa chiedono nella tua officina? Vabbè chiedono qualcosa di tipico e uno li propone sempre il maritozzo oppure anche cresce di Pasqua e comunque sia pannociati che sono insomma ricette prese da anziani del posto quindi sono un po' particolari rispetto a cose che si trovano negli altri fatti. E mi hai detto pannociato, nel pannociato invece cosa troviamo? C'è il parmigiano reggiano, le noci e poi le uova e l'olio. Quindi in questo caso si tratta di uno snack salato diciamo? Esatto, come la crescita di Pasqua, pizza di Pasqua e crescita di Pasqua. Va bene, allora ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie anche a voi.